Bella a tutti ragazzi, questo è un nuovo video dal vostro Matenarazzurro, scusate ragazzi negli ultimi giorni sono stato un po' assente ma ho avuto da fare, quindi ragazzi non sono riuscito a portare diciamo molti video, l'ultimo giorno di 4-5 giorni fa di Pavard all'Inter, poi non è stato ufficializzato ma verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Comunque ragazzi, oggi parliamo di Beto, perdita enorme ragazzi per l'Udinese che ragazzi perde un giocatore incredibile secondo me dai davanti, soprattutto per una realtà come alla squadra friulana, perché comunque secondo me non ti può permettere di perdere il tuo punto di riferimento offensivo il 28 agosto a tre giorni dalla chiusura del calciomercato, perché ragazzi in tre giorni che cazzo compri, perché ragazzi con chi lo sostituisci uno come Beto, che se non dovesse poi acquistare lo sostituto all'altezza come è ovvio che sia, perché ragazzi si parlava di Caio Giorgio, si parlava di Sule, si parlava di Origi, ma stiamo scherzando, ragazzi li vedo molto male senza Beto, perché ho già lo sostituto in tasca un conto, ma Vivaldo con la gente lì, ma stiamo scherzando, Origi, Origi sarebbe ancora veramente più imbarassante, presentarci ragazzi ai nastri, comunque la seconda e terza giornata con Toven, Lucca, coppi titolari, veramente imbarassanti, poi abbiamo visto questo Toven che è veramente poca roba, 30 milioni di bonus è la prezzo che hanno pagato, forse comunque un prezzo abbastanza alto, che ragazzi la famiglia Posto ovviamente non ha rifiutato, però io l'ho rifiutato, perché ragazzi non puoi perdere, lo perdono l'agosto in conta quella cifra, ma ragazzi, però abbiamo giocato comunque che li vale tutti e forse anche di più, giocatori mi piace molto come ben sapete, si dipenderanno subito secondo me della successione comunque, il calciatore parla un po' adesso Carina che è cresciuto comunque nel giovane di piccoli club tra Portogallo e Guinea, perché lui è anche origini guineensi, però lui comunque è nato Lisbono in Portogallo e ha giocato nel giovane di tra l'altro anche del Benfica, però la ragazza ha fatto il suo esordio nel 2018 nell'Olimpico di Montiglio, dove nella quarta divisione Portogallo, dove ragazzi ha fatto la sua prima esperienza in prima squadra, segnando molto, ma comunque ragazzi nella quarta divisione, quindi il livello era quello che era, però comunque prestazioni e gol che hanno convinto il Portimonense a dargli una grande possibilità, facendogli fare tre salti di categoria, dalla quarta divisione alla prima divisione alla prima era liga, dove però ragazzi impressionano tutti, diciamo che il primo anno fa un po' così così, facendo due gol in unici partite, quindi niente, il secondo ragazzi finalmente fa unici gol mi sembra, convincendo diciamo molti molti addetti ai lavori, diciamo attirando su di sé l'attenzione dell'Udinese, che come da sempre ragazzi è una scovatrice assoluta di talenti in giro per l'Europa, in giro per il mondo, che ragazzi investe circa 10 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto per portarselo ad Udine 2021, dove ragazzi comunque due stagioni fa secondo me molto 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 bene, va in doppia cifra in entrambe, 10 gol la scorsa, 10 gol due anni fa, 11 la scorsa, comunque segnando moltissimo secondo me anche in relazione a quello che ha giocato, perché ha giocato spesso molto poco, soprattutto scorsando con Sottil, subentrando spesso dalla panchina, quando c'era ancora il titolare dell'Ofeo che non c'era lotto, poi ragazzi risultando comunque decisivo anche subentrando dalla panchina, adesso ragazzi l'esperienza l'Everton, comunque fare il salto di qualità e diventare forse un attaccante ancora più completo. Parlando poi ragazzi delle sue caratteristiche, non è un fuoriclasse, non è un bomber, ragazzi di rassa, però è un buonissimo giocatore secondo me, per un'altra come Udine secondo me poteva anche ambire anche una medio alta di Serie A, una alta secondo me. Un attaccante moderno che ragazzi abbina una grande velocità ad un ottimo scatto palla al piede, ad un'ottima fisicità e grazie comunque alle sue leve lunghe che gli consentono di comunque essere molto molto rapido. Segna ragazzi secondo me molto in relazione al minutaggio che ha, come ho detto prima, perché comunque ha un grande rifiuto del gol secondo me, perché comunque non è che abbia tantissime cose nelle partite ma spesso segna. Bravissimi noti nel proteggere palla, facendo comunque buttarsi davanti all'avversario e facendo un grandissimo lavoro di sacrificio comunque anche per la squadra, magari prendersi poi nel centro campo e smistare. Ottimo anche nel gioco aereo, forse un po' tecnicamente un po' lo so pecca perché è un pochino ancora molto molto grezzo e ci deve sgrezzare, però secondo me ragazzi è già un ottimo attaccante, già di per sé dovesse migliorare assolutamente tanta tanta roba secondo me. L'attaccante è molto molto sottovalutato che ragazzi non accorgerà l'utilizzo, visto che adesso li vedo forse anche in zona resocessione con questa sessione clamorosa. E adesso ragazzi parliamo un po' della sua collocazione, nell'Everton andrà ragazzi a giocarci il posto con tantissimi attaccanti c'è Maopai, c'è Danyuma, c'è Calvert-June, però ragazzi è l'economia alla lunga potrebbe diventare il titolare, visto che ha le caratteristiche, veramente tanta tanta roba visto che poi l'Everton nel primo e tre partite fa zero gol, facendo ruotare due o tre attaccanti niente, zero gol, ultima in classifica, malissimo, malissimo, malissimo. Beto secondo me potrebbe prendersi di più potenza il posto del titolare. Voto ragazzi del 7 e mezzo all'Everton, comunque l'hanno pagato parecchio, però non è l'ivale e l'Udinese ci sta ragazzi, l'ho voto solo alla squadra che compra, però ragazzi ci sta. Questo ragazzi è il video, vedete il momento di cosa ne pensate voi di Beto, nel prossimo video secondo me ragazzi per età esorbitanti.